Saluto il gruppo, eccoci qua per la SOS University. Oggi parliamo di un tema caro al gruppo, che è un tema, diciamo, il motivo per cui esiste anche questo gruppo, ed è appunto la piorrea. La piorrea è quella malattia che colpisce quella condizione in cui si trova il paziente, delle volte associata a carenze genetiche, di difesa che colpisce appunto moltissime persone, moltissimi pazienti, che portano poi alla perdita prima di gengiva, poi di osso, fino ad arrivare alla perdita dei denti in stadio terminale, in stadio più avanzato. Quello di cui vorrei parlare oggi è un tema legato quindi alla malattia, alla piorrea, un tema che riguarda lo stadio iniziale. Ok, lo stadio iniziale sono le prime ricerche che un paziente fa su internet, magari quando sospetta di avere la piorrea, no? Quali sono i sintomi della piorrea? Voi l'avete mai cercato su internet anni fa questo? Vi ho messo sintomo di piorrea, sintomo di parodontite. Ok, con la testa fanno no. No. Con la testa fanno no, non stai inquadrando, ok? Per la privacy non stai inquadrando. Ed è ovvio questo, perché? Perché è un male silente. Quindi se uno non sente dolore, non ha un dolore forte, neanche gli viene il dubbio, ci aprò la piorrea. Tu provi a immaginare se c'hai che ne so, un altro male simile è la celiachia, capito? Uno non sa di avere la celiachia. Va a fare degli esami, degli accertamenti, potrebbe essere che è quello. Poi alla fine dopo, sì, c'è quello. Per uno non è che si sveglia a mattina, c'è un furuncolo sul viso. Quello lo vedi. Ah, ben certo. Ok. La piorrea, se non ti viene diagnosticata, moltissimi pazienti non sanno neanche di averla. Tant'è che quando noi la diagnostichiamo, gran parte delle volte lo diciamo al paziente, il paziente casca dalle nuove e dice, io, la piorrea. Io non è, cioè mi si muovono i denti, è normale, l'età, ma non è la piorrea. E magari c'ha una piorrea in questo stadio, come qua, c'ha uno stadio avanzato, molto avanzato della malattia, dove chi ha visto non ha detto a suo tempo che c'era la malattia. Ok? E chi è che diagnostica questo tipo di problematiche? Il dentista. Quindi se il dentista la vede, la riconosce anche in uno stadio magari più iniziale come questo. Vediamo che qua l'osso c'è, ce n'è ancora tanto, le gengive, ma c'è qua sopra già uno stadio iniziale di parodontite, qua su, le gengive dovevano essere a questo livello e anche qua, e si stanno già riassorbendo e stanno scoprendo la radice. Questo è già uno stadio, a dire, il vero intermedio, dove qualsiasi paziente, se gli fai vedere i denti, non vede questo, ma vede lo spazio tra i denti, e dice, ah, mi si sono allargati i denti. Ah, perché si allarga anche? Certo. Certo, perché si muovono. Certo, i denti perdono l'osso, l'osso se ne va, iniziano a muoversi e fanno così la bocca con l'asse. E si aprono questi spazi, questi che si chiamano diastemi. Perché non è venuto da sentire caldo e freddo quando vedi l'aria? Inizia a sentire caldo e freddo, perché le radici si scoprono, e le radici qua sono sensibili. L'età, poi lo spazio non è che si apre dall'oggi a domani, si apre lentamente, nell'arco degli anni si apre lo spazio. E quindi magari si inizia anche a abituare visivamente a questo spazio e dice, è normale, il mio sorriso è la mia conformazione del viso. Ma la malattia sotto le gengive sta andando avanti. E' un male silente la pirrea. Quello che ci può essere delle volte è un po' di sanguinamento. Uno lava i denti con lo spazzolino e vede del sangue e dice, ma magari mi sono traumatizzato lavando i denti, ho lavato troppo forte i denti. Un altro sintomo può essere per esempio l'alitosi, avere l'alito pesante. Perché i batteri che sono qua tra i denti, in questi spazi che si aprono, rimangono protetti, lo spazzolino non ci entra, in più si scollano le gengive dalle radici, i batteri iniziano ad entrare sotto, dentro alle gengive. E lì lo spazzolino non entra. Il fermentare di questi batteri produce questo alito, questa nitride solforosa quasi, che produce, è tipico dell'alito del paziente che ha una parodontite. È dovuta ai batteri che sono delle volte qua nelle tasche, quasi sempre anzi, e delle volte anche nelle cripte linguali, ovvero delle fessure che c'è un'associazione, tantissimi pazienti che hanno la piorrea, quindi anche voi che siete a casa potete fare l'esperimento guardandovi allo specchio, di pazienti che hanno la lingua fissurata, lingua fissurata, e hanno questa condizione del tutto normale, la lingua fissurata non è una malattia, è una conformazione genetica della lingua, parte della popolazione ce l'ha così la lingua, non è una malattia. C'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, c'è chi non ce l'ha. Ma non è il quale dell'alto. Sì, ok. Poi c'è più o meno fissurata, si hanno delle fessure come questa, questa è meno fissurata, e si deposita alla fine qua dentro alle cripte linguali i batteri, che sono poi la causa di questa malattia, che sostengono questa malattia. Questo cosa significa? Che se noi non passiamo il pulisci lingua sulla lingua e non andiamo a svuotare le cripte linguali, queste fessure che possono essere più o meno profonde, delle volte anche mezzo centimetro possono essere, questa è una lingua normale per esempio, vedete, questa è una lingua che non ha le fissurazioni. Vedete come una, ma non è che questa è una lingua normale, è sbagliato, è un altro tipo di lingua. C'è chi ha la pelle chiara e chi ha la pelle scura, chi è giallo, chi è bianco, chi è con la pelle grossa, chi ha il biotipo di pelle sottile per esempio. Ci sono gli uomini alti, gli uomini bassi, ci sono le donne bionde e le donne brune, c'è chi ha le cripte linguali e chi non ha le cripte linguali. Queste sono lingue che hanno per esempio un'alta probabilità di andare a accumulare cibo, batteri, e si associano poi con la fiorrea. Se più c'hai le cripte linguali e in più la carenza di fattori di protezione geneticamente, come l'interleuchino 1, allora è una festa. È molto probabile che si sviluppa la patologia, cioè che avanza. Se in più c'hai anche il dentista, o non c'hai peggio il dentista, che te la diagnostica, arrivi a 40 anni, 30 anni che già c'hai delle tasche avanzate. Se in più c'hai magari, non solo non hai il dentista, ma in più hai dei problemi, magari non riesci a muovere le mani, c'hai delle patologie, pazienti che sono speciali, pazienti che hanno sindromi, non riescono a pulire la bocca. A 30 anni quelli perdono tutti i denti, se non c'è ogni giorno qualcuno li pulisce perfettamente tutti i denti. La piorrea quindi è un male silente, per riassumere quello che abbiamo detto, è un tipo di malattia che deve essere diagnosticata da una figura specialistica, che è il dentista, perché se no non te lo viene a dire il vicino di casa che c'è la piorrea. Che c'è il brufolo sul viso, sì, te lo dice il vicino di casa. Cioè stai perdendo i capelli, te lo dice il vicino di casa. La piorrea è qualcosa di difficile da diagnosticare se non sai riconoscerla. Domanda. Sì. Prima domanda. C'è familiarità in questo? Certo. C'è familiarità tra pelle chiara e pelle chiara e figli con la pelle chiara? Certo. Quindi? Biondi e figli biondi? Certo. Pelle così? Ad esempio nel mio caso, c'è parte che io sape da mio nonno, mia mamma, noi, cioè io tre bambine. come faccio a capire per tempo, a parte dove portare a fare i controlli? Ma già la lingua potrebbe essere un segnale? Vi faccio vedere. Allora, mi piace rispondere andando in profondità alle domande. Ti potrei dire sì, si può diagnosticare. Vi faccio vedere come va diagnosticata. Allora, Mirra, andiamo, io ho il mio carissimo collega con cui ho diagnosticato tantissime parodontite, veramente tante. Si usa per diagnosticare la parodontite un test parodontale, si chiama. Ok, un test si può fare della saliva, un pack parodontale che noi andremo a introdurre anche in Italia con un semplicissimo esame di uno scrub che viene fatto all'interno della guancia e si fa un prelievo di tamponi all'interno delle tasche parodontali con un cottoncino che potrà essere fatto anche a casa. Questo si invia a laboratori analisi, il laboratorio analisi ci rimanda poi che cosa? Un grafico come questo dove ci sono i diversi gruppi di batteri, ognuna di queste barre colorate non è un batterio, è un gruppo di batteri perché poi la malattia è sostenuta da un gruppo di batteri cattivelli, non è mai sempre un batterio che causa il problema, ma è un'associazione di batteri. Ci sono tanti batteri che vengono analizzati in questo schema e sono tutti questi batteri qua. A seconda di come sono associati tra di loro questi batteri c'è un gruppo che c'è il rosso, c'è il verde, c'è l'arancio, sono stati codificati questi gruppi e quando ci sono associazioni addirittura tra i gruppi è molto più probabile di avere una parodontite che è aggressiva, che è quella che in due anni ti fa perdere tutti i denti. Ci sono parodontiti che ti possono far perdere i denti negli anni, parodontiti che vai a curare subito, non li perdere mai, i denti dipende dall'associazione di batteri, dal substrato, perché poi i batteri non sono il problema ma il substrato, cioè i batteri ce li abbiamo ora sulle mani, nel viso, in bocca, dappertutto ci abbiamo, ma se tu sei sano non attecchiscono, se il tessuto, il corpo inizia a essere malato, debole, allora quelli hanno sopravvento. Se in più magari ciò dei fattori che ci associano come il fumo ammazzo una certa categoria di batteri con le tossine del fumo, prevalgono altri batteri, ok, quindi ciò dei fattori, delle abitudini viziate di vita che mi portano a sviluppare una certa flora batterica. Se più c'ho il partner anche con quei batteri, ok, io mi cura, lui non si cura, è uno scambio continuo comunque di batteri. Quindi, i batteri sono molto importanti ma non sono l'unica causa. c'è anche il fattore genetico, l'ereditarietà e anche le abitudini e c'è anche che cosa? La prevenzione magari che non viene fatta. È una malattia multifattoriale si dice quando ci sono tanti fattori, sono tante cause. Se io c'ho un libido, per esempio un trauma, la causa è una, è il trauma che ho avuto. Basta che non sbatto il libido e non ne ho. Poi ci sono magari degli ambienti dove io posso stare che sono più soggetto a sbattere magari. Se faccio che ne so al lavoro di quello che serve ai tavoli, del cameriere, è molto più probabile che sviluppo libidi sulle gambe perché camminando 8 ore al giorno sbatto sulle sedie, sui tavoli. Quindi ci sono anche dei fattori predisponenti. Ti ho fatto l'esempio come per esempio quello che se lo va a cercare, che fuma. C'ha la predisposizione però se fumi due pacchetti si crea che al giorno peggio la pipa è molto più probabile che avanza la selezione dei batteri. Si incrostano poi che cosa? Le parti di gengiva scoperta che vi ho fatto vedere prima. Allora, c'era una foto qua per esempio queste parti qua si iniziano a incrostare il tartaro e quelle iniziano a sostenere in questa zona la tasca parodontale quindi qua abbiamo alcune zone in genere sono le zone dove non arriva però lo spazzolino qua dietro che iniziano a sostenere che cosa? Le colonie batteriche il tartaro lui si chiama tartaro che si va a togliere con la pulizia dei denti il tartaro ce l'ho anch'io in bocca e io pure muovo bene le mani voi immaginate avere tanti spazi tra i denti perché i gengivi si stanno ritirando diventa ancora più difficile poi togliere il tartaro può evitare che si forni e a un certo punto il pH scende della bocca se il pH scende perché i batteri producono acido lattico quelli che vivono là dentro allora è molto più probabile che si attiva il sistema di allarme del nostro organismo che è il sistema dell'infiammazione l'infiammazione porta le gengive a un certo punto a ritirarsi e peggiora il problema perché si creano spazi ancora più grandi e devi usare gli scopolini non basta più lo spazzolino un passo indietro bastava semplicemente magari rendere parte della prevenzione questa semplice analisi qua se noi facciamo l'analisi batterica sulla popolazione magari in età post-puberale quando un ragazzo inizia a avere magari la fidanzata o il fidanzato quando iniziano a esserci degli scambi col partner allora lì inizia a cambiare drasticamente la flora batterica della nostra bocca e allora lì conviene perché iniziamo a vedere se ci sono dei fattori di rischio abbiamo la possibilità di vedere geneticamente con uno scrub come questo sulla guancia se c'è la carenza delle interleucchina 1 quindi le difese facciamo una visita eliminiamo tutte eventuali tane batteriche che sono le carie e facciamo anche un'analisi dei batteri se noi avessimo fatto questo semplice screening e quindi un check up magari una volta all'anno ogni sei mesi vedere che non si aprano delle carie verso la piorrea è difficile andarci non ci vai verso la piorrea ci vai quando manca il controllo e lo screening se tu fai l'analisi di tutto questo poi hai un quadro esatto di quella che è la composizione batterica all'interno della bocca come questo ci viene un grafico fuori come questo porfiumona gengivalis ce ne sono treponema denticola td questi sono tutti i nomi dei vari batteri che rientrano all'interno della bocca ci sono tanti batteri però queste sono le specie batteriche che creano i problemi se questi batteri superano quella linea nera allora c'è bisogno di fare la pulizia dei denti se oltre a superare quella linea nera entrano all'interno di questi rettangoli blu allora c'è bisogno dell'antibiotico anche in associazione non solo la pulizia dei denti ma anche l'antibiotico e a seconda del rettangolo dove entrano c'è bisogno di quell'antibiotico perché ci sono diversi tipi di antibiotici sete antibiotici che io posso dare per la parodontite o associazioni di antibiotici che permettono alla bocca poi di guarire nel ciclo della terapia della parodontite l'antibiotico non è tutto anche la cura come la causa che è multifattoriale la cura deve avvenire da più parti la terapia che deve essere sia dal punto di vista batteriologico contenuta la carica batterica quindi l'igiene domiciliare ogni giorno bisogna svuotare dal cibo che cosa le cripte linguali quindi la lingua bisogna pulire tra un dente e l'altro con gli scovolini bisogna pulire le superfici dei denti con lo spazzolino bisogna togliere le carie o togliere i denti se ormai ci sono denti che sono perduti bisogna oltre questo andare a fare che cosa la prevenzione anche del partner ok? perché vi ho detto prima se io mi curo ma lei non si cura o lui non si cura stiamo facendo la cura a metà se io curo la bocca solamente una parte per esempio molti pazienti ci chiedono mi curo solamente l'arcata di sopra ma se il problema è una parodontite una fiorrea in stadio a panzato come sono caduti i denti sopra cadono anche gli impianti perché sto mantenendo mezza bocca in putrefazione e quindi quei batteri contagiano gli altri sopra ok? che siano radici naturali o radici artificiali i batteri intaccano che cosa? le superfici che si trovano esposte fuori dalla gengiva che sono i denti o artificiali o reali creano il biofilm e quel biofilm poi fa irritare la gengiva ma se io cambio drasticamente i batteri togliendo tutti i denti per esempio cambia completamente la flora batterica perché non ci sono più le superfici che c'erano prima tutte malate tutte attaccate quello è il momento di iniziare a usare dei collutori forti poi dopo un mese iniziare a usare i batteri probiotici dei lactobacilli tutte queste cose ricordatevi che ce le avete già nella vostra area segreta che vi arriva per mail ed è area after care ce l'avete via mail una volta qua dentro ci avete il protocollo e schema di queste cose di cui vi sto parlando ok? vi ho messo anche il link del probiotico che bisogna utilizzare che si trova in farmacia lo vendono lo trovano lo trovate sono delle pastigliette il gamperio balance se non lo trovate compratelo su internet e tutti questi attrezzi qua della gamma ok? c'è la vostra farmacia vi potete ordinare tutto da qua risparmiate gamma e merido l'importante è che avete le spazzole spazzolini scovolini filo pulisci lingua qua vi ho messo l'antibiotico che va bene nel 95% dei casi ok? io ho fatto tanti ve lo dico questo perché ne ho fatti tanti tanti di cure parodontali questo qua andrete in farmacia e vi dirai ma questa è una roba per uso ginecologico non lo sanno come si cura parodontali ci vuole quello ok? ci vuole questo con l'impegnativa del medico quello devono dare ti dici che è per tuo amore andate la cosa la cosa ideale sarebbe dopo andare da un parodontolo per farsi seguire da un parodontologo il parodontologo vi fa questa analisi qua che vi ho fatto vedere ok? poi lo scopo ora è questo di attivare in Italia la possibilità di farvi l'autodiagnosi praticamente ti arriva non lo propone nessuno non è che non c'è come i test genetici che arrivano a casa c'è lo scrub lo mandi e ti arriva il referto il risultato poi con quello vai e ti fai la prescrizione dal medico di base perché c'è molta ignoranza è questo il discorso c'è molta ignoranza se tu vai da alcuni medici alcuni dentisti non te lo propongono questo ma con ignoranza interesse no è sicuramente ignoranza perché parli di cose che magari conosci però se non c'è una speciale sensibilità verso quella malattia magari sei specializzato che ne so più in ortodonzia non lo vai a approfondire non sai neanche dove o magari non collabori con dei centri che fanno questa diagnosi precoce o questa stadiazione nel batterico a vedere quello che è il problema io ne ho fatto tanta perché aveva a che fare con la parodontite la parodontite la PC e andare a vedere in stadi dove il paziente deve mantenere i denti ancora molti denti andare a vedere un po' quelli che sono i batteri perché ci possono essere tra questi dei batteri che causano la perdita precoce e rapida quella che è la parodontite aggressiva voi siete in uno stadio ormai terminale dove ste cose è come che qua siamo al centro tumori e stiamo parlando di prevenzione del tumore ok voi già ce l'avete avuto quindi era una cosa che doveva essere fatta prima ma siccome oggi stiamo parlando di cause della parodontite è giusto che vi parli per i nostri per i futuri ne stiamo parlando qua sul gruppo siamo in diretta anche sul gruppo e si fa che cosa si fa una PCR praticamente con lo scrub noi facciamo uno scrub è come l'analisi scientifica della saliva del mozzicone della sigaretta rimane un pezzo di genoma quello viene amplificato duplicato duplica duplica alla fine arriva a essere duplicato di cosa tutto il genoma che è rimasto qua sopra per esempio che poi non è proprio questo ma è questo mi sono perso tolgo lo zoom ecco qua questo è un cotoncino sterile che viene inserito dentro alla tasca salta fuori che cosa che all'interno lì ci saranno su questo cotoncino i batteri saranno rimasti vado ad amplificare amplificare e mi escono fuori le cose il genoma di quei batteri ok il DNA di quali batteri c'erano lì a quella festa è l'esame più semplice del mondo semplicemente è una va a duplicare i DNA che sono presenti in quel prelievo e da lì poi viene fuori esattamente quello che c'era dentro una volta tu sai cosa c'è dentro sai anche che tipo di antibiotico devi dare o contro chi stai combattendo ma l'antibiotico da solo non serve a nulla come il curetage non so se lo conoscete questo termine lo conoscete perché vi hanno fregato perché il curetage senza questo non serve a nulla è abbastanza costosa costa molto io lo dico sempre il curetage senza impostare una terapia parodontale non serve a nulla è ingrattare togliere un po' di tartaro ma non stai andando a curare la problematica a risolverla stai solamente togliendo una parte degli effetti non ha risolto niente non risolvi nulla la terapia parodontale alla fine è una terapia difficile perché sono tante cose da fare io non so neanche su di me se riuscire a vincerla la parodontite perché devi fare tante cose le devi fare per tutta la vita è come il paziente diabetico guarisci dalla parodontite non lo so mai sei diabetico ci resti a vita se sei carente di entrare l'occhino uno ci rimane a vita carente se ormai le tasche si sono create l'osso si è ritirato quello ormai hai degli spazi di ponti in bocca capsule o levi via tutto rifai tutto quanto ma non hai neanche detto che non ti si incastra più cibo devi vitalizzare i denti serve solamente a curare la parte interna del dente ma la piorrea si interessa la parte esterna dei denti e delle gengive invece di vitalizzare significa andare a togliere il nervo dal dente serve fare un approccio da più fronti cioè il problema va attaccato da più fronti serve la terapia iniziale vi racconto come si cura la parodontite poi vi impressiono e vi farò capire quanto è difficile anche per un dentista curarla serve fare prima di tutto le fotografie al paziente poi serve fare le radiografie al paziente ok fare delle radiografie piccoline indorali quelle che ti mettono la lastrina in bocca e fa la foto e te ne deve fare almeno 16 di fotografie di queste e te le deve fare ogni 3-4 mesi queste fotografie perché poi deve andare a sovrapporre le fotografie vecchie con le nuove e vedere se è peggiorata la malattia poi deve fare un sondaggio di tutti i denti con la sonda parodontale la sonda parodontale altro non è che proprio uno strumentino questo qua si entra ha delle tacche questo strumentino si entra là dove ci sono le gengive tutte scollate staccate dalle radici e si riempie che cosa? la cartella parodontale che forse qualcuno di voi l'ha fatta in passato questa è una cartella parodontale è praticamente che cosa? un grafico quello che dobbiamo fare con tutte le zone dove si è staccata la gengiva ci sono diverse linee la prima è la linea rossa ed è la zona di recessione della gengiva la gengiva doveva stare qua a questo punto qua e si è riposizionata qua quanto è profonda la tasca? tu diresti 2 mm 1 e 2 no la tasca è quello che parte da qua a dove si è riposizionato l'osso quindi in realtà sono 1,2,3,4,5,6 mm più 2,8 mm tutto quello che è oltre 6 mm la terapia deve essere chirurgica devo tagliare qua la tasca tutta questa gengiva e portarla qua a un certo punto si sarà scoperta la zona di divisione delle radici il dente è perso perché qua non riesce il paziente a pulire dopo che io pulisco dopo circa 2 settimane qua c'è di nuovo il tartaro e quindi ha fatto la cosa per niente tanto vale togliere il dente se tolgo un dente cosa faccio? metto subito l'impianto? no perché non posso mettere l'impianto se prima non curo tutti gli altri denti quindi devo guardare la foresta devo prima curare tutta la bocca e nel frattempo cosa gli metterò in bocca? una dentiera semi mobile mobile coi gancetti che terrà per un periodo ma quella trattiene i batteri che è probabile che il paziente se la tieni in bocca di notte tutte le notti perché se no la moglie lo vede senza i denti io vi racconto le storie che succedono reali perché nessuno si toglie la dentiera di notte nessuno se la toglie se la tengono tutta in bocca per paura di e poi dirà fammi una dentiera in resina senza il metallo perché se no sbadiglio e quella si accorge che ho il metallo in bocca e poi non mi bacia più e allora la resina trattiene più placca del metallo e la parodontite è peggiore inizia a perdere un altro e un altro dente perché non ho neanche i soldi per affrontare tutta la terapia insieme e allora il dentista che fa? se non porta i soldi fai finta di curarlo ha pagato stavolta il paziente? no aspettiamo quando torna? torna il mese prossimo ok il mese prossimo facciamo il curetage nel frattempo il paziente non torna perché i soldi ancora non ce li ha ok e torna dopo sei mesi e c'è sempre un'altra sorpresa sfiducia nel dentista il dentista mi ruba i soldi ok le prime tasche si sono formate in realtà non per colpa del dentista ma per colpa dello stato che non ti ha fatto la diagnosi precoce se lo stato ti avesse fatto da ragazzo la diagnosi precoce lo scopo era quello di non far formare le tasche perché vi ho fatto questo discorso? perché una volta che ne entri nel vortice non ne esci più è veramente difficile uscirne o anche se hai i soldi per curarla e costa veramente tanti soldi curarla perché devi fare il curetage ogni 6-7 mesi e sono 700 euro a quadrante o a bocca che può costare alla fine ti svuota il conto in banca questa malattia dai tanti soldi al dentista e non hai risolto nulla e ancora devi curarla serve fare vi dicevo le lastre prima le lastre durante fare questo schema grafico e questo schema grafico insieme alle lastre e le foto va fatto ogni 3-4 mesi ti viene un dossier così alto per curare questa malattia e il paziente non capisce che la sta curando e non te la paga allora il dentista a quel punto si stanca anche di proporre la terapia perché pochi dentisti la seguiranno tutta questa giostra è una malattia che viene trascurata a livello sociale perché è difficile da curare perché bisogna fare tante cose e bisogna prenderla anche nel tempo giusto se la prendi già troppo tardi l'unica terapia è togliere tutti i denti quando vai a curare la malattia questa malattia parodontale tra le varie cose che ci sono da fare c'è togliere tutti i fattori di rischio il fumo quanti saranno disposti a smettere di fumare dottore guarda faccio il curetage però non voglio smettere di fumare ok facciamo il curetage però non smetto di fumare faccio il curetage l'antibiotico ma non tolgo i ponti perché li ho fatti due anni fa i ponti ma quei ponti vanno tolti perché accumulano cibo perché i libri della parodontologia dicono che devi togliere tutti i ponti dalla bocca e le capsule più devi togliere le carie e i denti del giudizio la bocca deve essere resa facile da pulire se la bocca non viene resa facile da pulire il curetage li puoi fare bene ma a casa il paziente farà l'igiene fatta male e a quel punto sta di nuovo ponti a capo ci sono poi magari impianti all'interno della bocca che qualche dentista gli ha messo nonostante avesse già la parodontite e gli impianti ancora non li poteva mettere quegli impianti attorno hanno sviluppato per implantite però li ha pagati troppo e non li può togliere perché hanno perso appena appena un po' di osso ma c'è ancora alcune spire ma c'ha già delle spire che sono esposte quelle spire dell'impianto si farciscono di batteri e di tartaro e sostengono la parodontite il protocollo corretto sarebbe andare a limare tutti gli impianti e renderli lucidi come dei colletti lucidi questi impianti quelli che sono esposti che hanno sviluppato la perimplantite ve la faccio vedere una perimplantite la perimplantite quando si inizia a staccare vedete qua la gengiva dall'impianto praticamente la tasca che si sviluppa attorno alle radici si può sviluppare anche attorno agli impianti perché il biofilm si attaccava qua ai denti si attaccava il paziente continuava a fumare i batteri si erano riselezionati aveva iniziato bene con tanta grinta tanta voglia di cambiare il microclima batterico e poi ha ripreso le vecchie abitudini si creava perimplantite prima su uno poi su due poi sugli altri impianti e a un certo punto la malattia riprende la causa cosa sono i batteri o vi ho detto prima le abitudini del paziente più la predisposizione genetica non i batteri i batteri non ne hanno colpa sono lì i batteri ma se non vengono rimossi quotidianamente oppure vengono eliminati i batteri buoni dal fumo per esempio quelli prendono il sopravvento e se il paziente è geneticamente debole fanno i danni la parodontite è un male silente in più perché il paziente non se ne accorge non ha dolore non hai come ti fa male delle volte il paziente si accorge di avere la parodontite perché il dente si muove e quindi ha la percezione che c'è qualcosa che non va perché c'ha l'alitosi e gli dicono vatti a fare un controllo oppure perché c'ha dolori perché le recessioni i gengivali li hanno portati a sviluppare delle carie forti che hanno portato i denti a dover essere devitalizzati allora ti viene la pulpite dolore forte pulsante vai dal dentista al dentista ti dice c'hai una parodontite perché c'hai una malattia cariosa che è arrivata molto oltre oppure se ne accorge il paziente perché ormai i denti sono tutti che sanguinano cioè le gengive sono tutte che sanguinano e allora c'è un sanguinamento profuso si sveglia magari la mattina che c'ha il cuscino proprio macchiato di sangue e dici non è normale ti spaventi lì vado a farmi un controllo vado a fare un controllo perché ho sputato sangue uno la prima cosa che pensa c'è un tumore non pensa più alla parodontite pensava dal dottore mi dico ai famigli e dice stamattina ho trovato ho visto non so qualche film quando è sangue è pericoloso penso di avere un tumore no c'è la parodontite ti dico è peggio perché resti in vita ma ti costerà tanti soldi che resti in vita ma ti costerà tanti soldi vai in uno stadio successivo dove sai di avere un problema ma oggi la lezione era solamente su non so di avere un problema ok come si diagnostica la parodontite l'unico modo di diagnosticare la parodontite non lo può fare il paziente da solo ti può andare a cercare su internet 10 modi per riconoscere la parodontite come i sintomi della parodontite vai da un dentista e fai una diagnosi vai da un dentista fai l'analisi genetica l'analisi dei batteri e il sondaggio parodontale per vedere che non ci siano delle tasche le tasche parodontali già quelle di per sé bastano con un sondaggio per fare diagnosi di parodontite poi le radiografie endorali l'analisi batterica quella ci dà conferma di quali tipi di batteri ci sono e di quante grave la parodontite il grafico come questo ci dà un'idea grafica di dove sono maggiormente i danni in questo caso sono nemolari i danni meno nella parte anteriore anche se nella parte anteriore in realtà è più grave perché ha perso già gli incisi bilaterali vedete quelle barre quello significa che il dente è stato estratto quando iniziano ad essere estratti i più denti poi c'è anche l'aspetto biomeccanico che inizia ad essere un pochino più sfavorevole come qua per esempio il paziente inizia ad avere perso qua molto osso ha già dei ponti ha già degli impianti molti denti devitalizzati questa è una bocca ormai dove il paziente ha speso già tanti soldi perché ognuna di queste terapie l'ha pagata ma l'osso si sta tutto continuando a riassorbire l'osso che doveva stare qui i denti non dovevano essere devitalizzati non doveva avere questo metallo incollato sui denti questa è già una storia molto 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 grave una bocca normale e questa questa è una bocca normale la lastra di una dentatura normale le prime volte che facevo lezioni qua l'equipe l'equipe storica e mi facevo vedere questo perché facevamo già casi molto complessi però loro si sentivano superman dicevano vabbè ma lo so fare quello lo facciamo andiamo avanti facciamo un altro e le dicevano non dimenticatevi mai che non siete Dio non siete superman state curando ogni giorno casi molto complessi perché questa è la normalità questa è una cura semplice una carie ma andare a rifare tutta una dentatura artificiale la prima cosa che dovete fare è far capire al paziente che si trova in una condizione estrema da lì ho cambiato riabilitazioni estreme della bocca per far capire al paziente che la situazione non è normale ma si trova il paziente in una condizione veramente disperata di cura della bocca non è normale aver perso tutti i denti e anche quindi la terapia non sarà una terapia convenzionale ma serve che il paziente ci aiuta nella terapia già capendo che c'è un problema molto grave e che a casa farà delle cose poi dopo che rispetto agli altri pazienti che magari non devono fare loro non hanno bisogno magari di fare dieci minuti al giorno di igiene mattina e dieci minuti la sera per un paziente che ha sedici impianti dodici impianti tutte le capsule artificiali i provvisori in resina PMMA sono tutti materiali artificiali questa è una bocca di un paziente normale facile questa è una bocca bionica ditemi cosa c'è di diverso tra questa e questa questa e questi sono radici naturali che hanno sensibilità che sono ammortizzate nell'osso sono tutte una separata dall'altra se una si caria non ti va se una si rompe di dente non ti va a rompere tutta la la masticazione vai a mettere lì il singolo impianto se si apre una caria vai a curare quella caria qua è tutto unito se c'è un problema di struttura devo questo è un paziente che ha le gambe artificiali come te hai sei impianti sopra sei sotto tutto artificiale sì all'apparenza chi ti vede non lo dice dice hai i denti però se vai a fare una radiografia vedi che non è normale qua sotto si sta riassorbendo l'osso attorno a questo impianto soluzione svito via quell'impianto e avvito i denti va avanti lo stesso il paziente anche senza questa ruota ne aveva sette sotto le ruote però mettete in conto che i denti non sono più i denti naturali sono delle simulazioni questi erano naturali dipende da come li tiene il paziente che è durata l'automobile che ne so quando faccio incidenti o se guido bene non lo faccio mai l'incidente se invece guido spericolato c'è il rischio che dura una settimana con la macchina tutte le cose che non fareste mai con i denti naturali a maggior ragione non vanno fatte con i denti artificiali fumare trascurare l'igiene andare a aprire le bottiglie con i denti o a tenere la pipa strappare il cibo oppure che ne so tutte le cose che non fareste mai a livello microbiologico e a livello meccanico meccanicamente ti hanno sempre detto togli la forchetta dei denti togli il coltello dei denti non stuzzicarti i denti non mangiare le noci non morde con i denti bionici non lo fai questo io uso delle parole come la bocca bionica perché servono a far prendere coscienza che non è la bocca naturale se io ti dico braccio bionico capisci che in certe cose non le puoi fare ti dico dentatura bionica capisci che non è naturale quindi alcune cose non le potrai più fare ma la parodontite si blocca la parodontite è come la ho detto prima è come il diabete non guarisce vuoi dire dottore diabete guarisco no puoi evitare di essere danneggiato dalla parodontite puoi fermarla diciamola così puoi fermare gli effetti puoi fermare non puoi eliminare la causa la causa ce l'hai ed è la condizione genetica l'avere perso in bocca tutti i denti avere ora delle arcate fisse avvitate che tratterranno comunque del cibo tra questi impianti si trattiene del cibo ed è per quello importante andare a fare l'igiene con lo ho fatto vedere anche la settimana scorsa col filo per esempio superfloss vai a far passare questo filo sotto alla protesi andiamo un po' più avanti si vede qua lucidi bene l'impianto con la con la spugnetta di questo filo poi guarda puoi passare sotto al ponte con la spugnetta vedi che lo pulisce esistono in Italia si usano i bambini per pulire gli apparecchietti ortodottici poi gli chiedete al farmacista il filo per l'apparecchio è questo il filo per l'apparecchio ortodottico è perfetto perché c'è una parte rigida di plastica rigida questa azzurrina che si vede qua questa è la parte rigida del filo che entra dappertutto come uno stuzzicadenti però flette un po' flessibile la chiappi e lo rifai passare dall'altra parte e poi al punto lucidi il colletto questi video li trovate nell'area aftercare nell'area aftercare trovate come risolvere i problemi dopo le cure facebook clicca su questo bottone e ti manda e potete scrivere qua e vi risponde l'ufficio il back office in back office io sono sempre a contatto col back office e do indicazioni su come risolvere i problemi dove deve essere smistata oppure c'è whatsapp ok questo è il numero whatsapp dell'aftercare quindi prima cosa cercate se avete l'accesso all'area aftercare vi dovete registrare dentro ci sono tutti questi contenuti come usare il puliscio in lingua eccetera ma torniamo alla perimplantite invece l'idropulsore non si usa l'idropulsore come l'idrogetto dell'auto che se comunque non spazzoli vabbè quello si manda solo via cose pezzi grossi di fango dall'auto ma non è che diventa lucente si asciuga ed è impolverata comunque la macchina stessa cosa il biofilm batterico se tu non lo spazzoli via quella gelatina acida rimane come lo yogurt attaccata sulla lingua e anche soprattutto sulla lingua poi perché il 70% dei batteri sta sulla lingua lo faccio vedere guardatevi fatevi la lingua che c'è da vediamo chi c'è la bianca? lei c'è la rosa? io la c'è la rosa rosa un po' bianchina un po' bianchina questa è bianca questa c'è lo yogurt sopra questa è parodontitis assicurata io no la lingua deve essere rosa di questo colore deve essere la lingua va spazzolata e poi con un rastrello tirata via con la gelatina acida va tirata via con il pulisci lingua c'è questo rastrellino la lingua come questa è una lingua che può che trattiene i batteri hai lavato bene i denti però poi dopo la lingua ogni quanto lavi la faccia allora va lavate mani e faccia si lavano come la bocca almeno due volte al giorno e devi lavare poi tre meglio quando tu vedi che sul viso inizia a essere poco fresco è il momento di darti una rinfrescata bocca lingua mani viso tutto lo dicevo la settimana scorsa se non ti lavi la bocca poi i batteri e le gengive si irritano e se iniziano a sanguinare poi si aprono le ferite guardate avete mai visto lingue come queste? ma ci sono poi delle condizioni come queste vi dicevo la lingua fissurata che sono più difficili da pulire lingue come queste da tenere igienizzate quindi sono come pazienti che hanno tanti ponti in bocca rimane acida la bocca se rimane acida va lavata più spesso e non basta solo meccanicamente ma va anche disinfettata va disinfettata come protocollo schema venite qua area after care e vi ho fatto qua anche il protocollo ve l'ho disegnato vi ho messo qua i numeri di quello che bisogna usare e vi ho messo i collutori non vi ho messo i nomi commerciali voi chiedete questo in farmacia clorexidina clorexidina gamperi o balance oppure questo questo è solo reflore gocce sempre la stessa batteria quello buono c'è scritto qua da 0 a 30 giorni devi fare questo da 30 giorni a 60 giorni quindi secondo mese cambia praticamente il collutore che invece di usare il 4 devi usare il 5 che è più leggero e poi devi mettere al secondo mese i batteri e tu direi quando li devo usare i batteri c'è scritto qua allora ve l'ho messo il suorino per la parodontale ecco qua una volta al giorno ok e poi in questo periodo non fumare o ammazzi batteri buoni magari sostituisci con quella elettronica o usa il cerotipan nicotina se proprio non ce la fai con il messo cercate di magari centranti fumo e unite la terapia parodontale la terapia la ricostruttiva della bocca o un cambio di vita come hanno fatto tantissimi pazienti basta prese la decisione mi sono tolto i denti e tolgo anche le sigarette basta tanto è come se vi avessimo diagnosticato un carcinoma ai polmoni siete vivi ancora ma a sto punto basta perché devi continuare avete curato avete fatto la terapia non solo voi ma anche il partner fate smettere e fate coincidere la cosa con un bel cambio qua ve la spiego anche mi ha fatto un video anche che vi spiega proprio il protocollo non c'era la barba bianca e questa è un'area importantissima voi da un punto di vista informativo siete più avanzati perché rispetto a chi magari avrà visto in futuro questo video e si troverà in un mindset noi lo chiamiamo uno ovvero ci sono diversi mindset in cui una persona si può trovare ovvero stati mentali non so di avere un problema dopo so di avere un problema ma non conosco la soluzione stadio successivo conosco la soluzione ma non so dove ok o non so esattamente cosa o l'onfor o l'on6 o l'on6 premium pecto non lo so fase successiva dove hanno già fatto la terapia ok come lo devo mantenere voi siete in uno stadio ormai da mindset 4 5 state andando verso addirittura al mindset 6 no e il come lo risolvo il problema ok potrebbe esserci il problema adesso no è quello che già sul quale ora siete proiettati ci potranno essere problemi certo oggi stiamo parlando anche di quello il miglior modo di evitare i problemi o meglio di risolvere i problemi è non averne evitiamoli i problemi usate sempre cautela quando si mangia e smettete di fumare e mangiate tagliate il cibo a pezzi e poi lo masticate non lo strappate evitate di fare quelle cose che sforzano le protesi se c'è un problema quello che vi posso dire non andate in panico ok non andate in panico perché abbiamo tutto un protocollo anche after ok come si risolvono i problemi dopo la chirurgia dopo i provvisori con i denti definitivi ci sono tutti noi abbiamo per ogni problema come va risolto non vi sto qua a parlare di tutti i problemi ci possono essere perché sono tanti ogni giorno anche io mi stupisco ne vedo di nuovi però c'è sempre una soluzione perché non abbiamo mai avuto problemi che non si sono risolti perché sono fortunatamente piccoli problemi quelli della bocca non sono trappianti di cuore non sono cose e molti non li abbiamo contati però sono tanti tanti problemi ne abbiamo tutti i giorni abbiamo circa io li ho calcolati bisognerebbe chiedere aspetta gli ho chiedo a Olic lo chiediamo a un certo punto chiuderebbe perché su le varie problematiche si facciamo la categorizzazione più anche le fotografie dei vari problemi così si fa vedere quello che è il problema che ci può essere e come poi va risolto vediamo se mi risponde Olic che non c'ho accesso al suo lui usa Zendesk aspetta 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 mi sa che riesco a entrare nel suo sistema vediamo siamo dentro al sistema di gestione dei ticket ok questi sono i ticket aperti il nome li fa vedere tutti quanti vediamo generazione rapporti questi sono tutti i vari ticket degli ultimi 30 giorni 33 ticket 36 risolti 8 che sono ancora correnti i problemi da risolvere ogni ticket c'è tutto lo storico fotografia come sta succedendo come sta tenendo il cestito se ne occupavo Olic di questo quindi cosa facciamo cataloghiamo tutti quelli per esempio questo dente rotto questo dolore impianto scoperto vediamo qua cosa c'è qua ok e la fotografia anche così condividiamo anche poi questo in realtà mi pare che fosse un falso ticket perché questo non era l'impianto ma era la struttura si fa una fotografia ce la si manda poi una radiografia e a distanza vediamo quello che è il problema ok poi e poi vediamo se è un problemino da risolvere col centro aftercare oppure se ci serve una panoramica oppure se bisogna tornare in Moldavia per casi più gravi proprio c'è la struttura tutta spaccata che ha mangiato le noci allora va smontata e si riabita una nuova arcata ok la cosa migliore va mantenendo comunque lo storico di ogni lavoro certo i problemi non li puoi eliminare i problemi vanno gestiti vanno gestiti non è la miglior gestione poi dei problemi è l'educazione alla non avere problemi per quello facciamo anche su esse university di modo che nel gruppo stiamo in realtà con queste lezioni evitando alle persone tanti altri problemi stiamo facendo informazione e formazione per quello che poi è il mantenimento io faccio ora un saluto al gruppo abbiamo finito la lezione di oggi passati i 60 minuti non vedo qua domande non so se siamo live se ci sono commenti ah erano nascosti faccio vedere l'abbinamento struttura con i vari materiali oggi abbiamo parlato di altre cose una arcata da un vino un altro poi a denti devitalizzati con capsule provisive tutta la carta vorrei chiederti quando vengo a ottobre mi viene messa una arcata completa o singoli dobbiamo vederli singoli casi sennò dobbiamo aprire tutte le radiografie dove? e che cosa ha chiesto non so se ha chiesto qualcosa ma si sarà voglia da non mi fa vedere ora le persone online solo qua se avete delle domande me le potete fare ora lo dico anche al gruppo se avete delle domande ancora due o tre minutini vi posso rispondere a qualche domanda se avete dei dubbi delle curiosità la settimana prossima invece parleremo di preventivi ok se avete preventivi fate ad altre cliniche oggi abbiamo iniziato a lanciare anche sul gruppo quello che è il sondaggio prendeteli perché stiamo collezionando tutti i vari preventivi che un paziente fa o può fare o può aver fatto se avete anche dei preventivi storici mail che avevate ricevuto eccetera prendeteli perché vi farò vedere la differenza tra noi e gli altri cioè vi faccio capire perché avete fatto la scelta sbagliata ok non dovevate venire in Moldavia no dovevate no dovevate scegliere in base al preventivo ma dovevate guardare delle cose di cui vi parlo giovedì prossimo che sono fondamentali invece quando uno deve capire dove si deve curare non deve guardare il preventivo ma sono il preventivo è solamente un numero ok è una lista di viti bulloni cavetto rosso blu due metri di ok ma che devi costruire che devi fare un palazzo una villetta schiera ti serve la macchina per correre o la macchina per la scampagnata devi vivere 30 anni o devi vivere 10 anni c'hai se in stadio terminale oppure devi fare un lavoro che ti deve durare giusto 2-3 anni devi fare che ne so un lavoro estetico o funzionale devi fare un lavoro mantenendo dei denti oppure devi togliere via tutto perché se devi mantenere dei denti poi ci sono anche delle cose che dovrai fare dopo ok se devi mantenere dei denti che sono come vi dicevo cercare un parodontologo in zona un parodontologo e iniziare ad avere un po' più cura di fare dei controlli irregolari perché se no uno in realtà quando fa tutta la bocca artificiale si è tolto gran parte dei problemi si è tolto gran parte dei problemi perché mantenere i denti nella bocca è più difficile ma ci sono denti buoni non ci sono denti buoni tu devi vedere la bocca nel suo intero è una bocca che sta funzionando o no se i denti sono buoni li mantieni se i denti non sono buoni nel senso che si muovono li togli ma tu devi guardare la foresta la foresta è che la bocca è in dinamica è in statica noi come chi come lo sapete sono un terremoto di uova e di uova credi siamo nel caso di uova bisogna vedere bisogna vedere bisogna buono toccaferro c'è solo legno no se ci sono casi e casi oggi ho parlato di piorrea ma non è detto che lui ha perso i denti per piorrea magari li ha persi per trauma per incidente per timore che ne so sono tante le cause non è solo la piorrea la piorrea è una parte la parodontite è una parte delle cause per cui molti pazienti vengono qua siamo poi specializzati nelle ricostruttive complete che significa che per fare ricostruttive complete devi avere tanti altri accorgimenti in clinica che non tutte le cliniche hanno perché non puoi ed è per quello che noi siamo contro le reti di vendita ne parlavamo ieri di reti di vendita per esempio dove dicevo ci sono alcuni policlinici che sono attrezzati per alcune cose e non per altre se tu hai bisogno di fare un tipo di intervento è come andare al ristorante di pesce e chiedere un piatto di carne ok non sì ti porto pazienti tutte le ti porto anzi clienti tutte le sere al ristorante mi dai una percentuale e poi ti inizia arrivare al ristorante chi vuole la carne chi vuole il pesce tu sei un ristorante specializzato in ciarrascheria carne per esempio e si arrabbia con te perché il pesce faceva schifo e ti lascia la recensione negativa perché il pesce faceva schifo ok ma noi facciamo carne e ascolta quelli non portarmeli più ok a chi li porto questi allora li mando da un altro ristorante funziona così non purtroppo nella sanità deve ogni paziente trovare il suo centro specialistico per quel suo problema non a caso noi abbiamo quasi solamente pazienti che devono togliere tutti i denti non trovi pazienti che devono fare l'apparecchio ortodontico non trovi ragazzini bimbi non trovi magari pazienti che devono fare la parte solamente estetica ok casi ma guarda che è stata una conseguenza perché una conseguenza cercata voluta perché io volevo specializzarmi in quello in riabilitazione completa della bocca quando ero all'università perché non ero figlio di dentista ecco nasce tutto da lì il mio discorso non ero figlio di dentista quando non sei figlio di dentista da un certo punto di vista è carta bianca perché puoi decidere cosa fare però da un altro punto di vista non hai neanche i maestri te li devi andare a cercare però da quel punto di vista è un bene perché inizi a cercare i migliori e dice ah se posso scegliere chi seguire allora a quel punto scelgo i migliori per i migliori poi iniziavano a portarmi in giro il giro era sempre più largo vedevo cose top 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 che poi tornavo in Sardegna non c'erano quelle cose non c'erano le richieste poi mi sono fatto un giorno una domanda dov'è che trovo questo tipo di interventi e lì ho scoperto cos'era Budapest una clinica che faceva solo questi lavori guarda caso faceva turismo medico perché col turismo medico chi deve fare lavori grossi il preventivo è molto alto e allora apre il computer e cerca dove andare a fare quel tipo di lavoro e va a cercare delle cliniche specialistiche che deve non va inizia magari la ricerca con risparmiare dentista oppure dentista più economico poi c'è la piorrea inizia a cercare centro patologia orale centro cura piorrea poi scopri che devi fare mindset 3 riabilitazione o l'on-six o l'on-for e cerchi centri specializzati o l'on-for o l'on-six poi dopo ti inizi a informare proprio in ricostruttiva più avanzata digitale e alla fine arrivi a noi quindi i pazienti arrivano con ricerca attiva con ricerca attiva non è la rete commerciale ti tiro per la giacchetta al bar pieni curati da Francesco che poi scopri che in realtà lui per curare tuo figlio si è preso dei soldi poi lo guardi male il dentista il medico che gli ha fatto il trappianto e magari fa trappianti di regno e gli ha fatto il fegato e dice ma scusa tu mi hai fatto venire qua a questo centro trappianti e scopri che in realtà hai preso il 10% per questo le reti commerciali in sanità non vanno bene quello che dicevamo l'altro giorno per esempio parlavamo di franchising perché non fai franchising l'unica cosa che si può fare in Italia sono dei centri informativi infopoint poi uno in maniera autonoma deve cercarsi le informazioni basta solo centri informativi ma che danno informazioni veritiere e corrette nel senso il problema è questo sicura così e cosa? che vada bene per te non te lo so dire bisogna fare una diagnosi che non può quella clinica curare tutti i pazienti perché ogni clinica ha un suo gusto un suo sapore che fa meglio in quella roba riesce a fare meglio quella roba noi sappiamo fare quello poi ci dai a fare magari altre cose siamo noi primi a dirti guarda vai da quella clinica a fare quello non è il nostro non è il caso che vieni qua a fare questa cosa oppure stai in Italia cercati uno che ti fa le devitalizzazioni bene a Brescia non venire qua per il raffreddore qua si viene per il trappianto non occuparci l'equip o posti in appartamenti o proprio l'ora noi più di quelle ore al giorno già siamo cotti così però non possiamo strafare perché poi inizia a perdere la qualità iniziamo a stancarci duriamo invece vent'anni cinque anni siamo poi da infarto sì può crescere l'equip ma è più importante il processo e quindi la velocità è più importante il processo ma chiamiamo la qualità proprio processo controllo del processo che vengano rispettate le cose che visticiare ogni giorno tra di noi tra i dottori prenderci per i capelli abbiamo problemi perché in cose noi ci sediamo ok facciamo l'elenco dei problemi parliamo di problemi non delle cose vanno bene quali sono le cose da risolvere questo ok come va risolto così proviamo questo proviamo a incastrarci così così poi le persone farle girare da un dipartimento all'altro di modo che c'è cento persone tra di loro devono conoscersi e lavorare tutte tra di loro non è che tu non hai mai visto Iana o Iana non ha mai visto mai dottor Lefko non si parla con la Livia oppure quella di reception che non sa manco che c'è il laboratorio lì bisogna farli turnare girare ora per esempio la Dumitriza l'ho presa l'ho mandata nel marketing assistenza ai pazienti così vede ora per altri tre mesi altre tipologie di problemi poi c'è chi va chi torna chi si assenta per sei mesi poi ritorna e ha avuto un figlio un'equipe comunque c'ha una sua vita questa famiglietta che abbiamo c'ha una sua vita che c'ha tante soppopera ci sono gli amori ci sono i matrimoni ci sono le separazioni la separazione ancora no non è come in Italia figli sempre quelli ora si sta arrivando la nuova ondata 2020 di Pance abbiamo visto il figlio piccolino dell'autista come si chiama Andrei di Andrei si biondino giusto secondo figlio noi abbiamo da fare una cosa molto complessa difficili e ci serve serenità quando lavoriamo il ruolo anche per cui è nata la logistica se noi non avessimo avuto la logistica al dipartimento quinto piano avremmo avuto tutti i pazienti affollati in sala d'attesa noi abbiamo un grosso problema che la sala d'attesa è in mezzo alle sale chirurgiche il brusio continuo 8 ore al giorno il chirurgo già ha la schiena sudata a fine intervento ma lavorai con il brusio poi torni a casa e sei cotto passare ti ferma ti chiede questo cerchiamo piuttosto di tenere i pazienti impegnati in attività separati dalla clinica di modo che i chirurghi devono lavorare serenamente perché sono lavori comunque complessi una volta che inizi non si è che ora finisci può andarsi finiamo oggi alle 8 come alle 11 o alle 2 dipende dalle chirurgie e gli orari che si sono cumulati poi anni fa ci dicevano sempre anche l'anno scorso siete sempre ritardo ritardo fisiologico perché non sai quando finisci la chirurgia io gli dico sempre non vi preoccupate il paziente sta qua 7 giorni comunque è qua il paziente non è come voi vi hanno dato un telefono quando è il turno vi chiamano ok è il momento di venire in clinica paziente mi hanno dato appuntamento alle 11 poi mi hanno spostato le 2 poi alle 3 ben venga il motivo per cui io all'inizio mi arrabbiavo con la Moldavia perché erano lenti al ristorante a pizza magna di spizza perché te lo stanno cucinando non è surgelato ok te lo stanno cucinando se è una cosa rispetto all'orario in sanità c'è il rischio o che te l'ho andato ben cotto troppo cotto oppure ancora crudo è difficile che vai a rispettare proprio il calendario chirurgico e protesico molto difficile o sei veramente la Ferrari che hai tutto iperstandardizzato ok metti l'impianto a vita stringi chiudi lembo vai no apri l'attacca era così è un po' diverso cambia l'impianto stringi il letto dammi un altro questo metilo là si fa il reso dammi l'altro impianto più largo cambia il diametro apra la bocca sta vomitando il paziente non si può aspetti dottor Leffo sta vomitando ok si riprenda 10-20 minutini andiamo facciamo il controllo nell'altra stanza nel frattempo poi lo sta coteando è svenuto svenuto ok blocca l'intervento mettilo nel lettino ci sono gli imprevisti tanti è in tutti i settori così come se non crolli serve se è flessibile come gli aerei se non crolli potete prendere un appuntamento per qualsiasi visitare 10 ti chiamano le due paziente però non lo capisce questo perché pensa che sia un lavoro come Mcdonald standardizzato che cetriolo formaggio chiudi pacchetto consegna è più complessa è un'attività molto complessa quella odontoiatrica perché c'è tanti cabinetti che lavorano contemporanei c'è il personale parasanitario paramedico infermieri tutti che possono avere problemi pazienti che possono avere in più i problemi legati all'almerghiera tutti insieme abbiamo messo in conto di avere sempre problemi ma abbiamo messo in conto di risolverli tutti poi ci sono alcuni problemi che sono prioritari rispetto ad altri per esempio i problemi chirurgici sono prioritari rispetto all'acqua nell'appartamento poi ci sono problemi tipo il che possono essere risolti con situazioni con soluzioni di emergenza poi soluzioni intermedie a lungo termine che ne so buco la ruota del bus i pazienti sono arrivati in aeroporto taxi soluzione di emergenza medio termine ruota di scorta lungo termine cambio la ruota questo è come risolviamo poi i problemi abbiamo soluzioni di emergenza intermedie a lungo termine ci abbiamo che ne so noi abbiamo delle volte affaticamento verso maggio affaticamento perché noi abbiamo in Moldavia il problema della doppia festa sempre che c'è Natale e doppio perché c'è il calendario ortodosso c'è Natale poi di nuovo Natale Capodanno poi c'è di nuovo Capodanno c'è il compleanno ma si festeggia bene anche l'onomastico come se fosse il compleanno e in più siamo 100 persone e dobbiamo festeggiarli tutti 200 tra compleanni onomastici più ci sono le feste di matrimoni battesimi e in grassi e poi paziente che si arrabbia se non mi presento a mangiare voi siete in vacanza noi stiamo lavorando però mangiamo ogni giorno qua se dobbiamo mangiare ogni giorno siamo così mangiate voi che siete in festa noi siamo tutti a dieta perché poi inizia l'estate il periodo delle cerimonie l'estate è ora tutto cerimonie feste poi il sabato c'è la festa dell'SOS Party estivo summer party poi c'è la festa c'è sempre festa è giusto quello celebrare le feste le ricorrenze fa parte dell'equipe fa sentire il team fa sentire tutti i valorizzati ed è una parte essenziale che non puoi togliere quella perché stiamo facendo un lavoro di dinamico ma anche di di contatto non è un lavoro al computer che manco vedi chi c'è dall'altra parte dobbiamo lavorare tra persone con persone tra di noi devi tenere il gruppo il team l'equipe non puoi standardizzare troppo deve essere anzi personalizzato più è personalizzato e più è bello anche fare la fatica ogni giorno quindi quello è il motivo delle volte perché non ci vedete non mi vedete immaginate già mi vedete molto nei video voi venite e mi vedete tutti i giorni qua un giorno a settimana lo dedico per conoscervi tutti per sentire se volete chiedermi però sto sempre che sto risolvendo le cose ho tutte le cose da fare poi anche quello c'ho la ricerca c'ho priorità sempre al laboratorio perché poi non è che bisogna rispondere il giorno dopo ci mandano i file dobbiamo essere sul pezzo e poi toglierei che cosa la luce a chi veramente fa le cose che sono la squadra ed è giusto quando venite qua invece che conoscete loro che conoscete il chirurgo parlate col protesista vi sticiate col protesista vi fate accorciare i denti o allungare la protesista io parlo però io ho firmato un contratto con loro dove io non potrò mai intromettermi tra loro e il paziente proprio per salvaguardia dei protocolli ho firmato un contratto dove io non posso decidere nulla e loro sono responsabili della scelta che fanno a livello di scelta del materiale numero di impianti ricostruttive osse e così che si cresce non così ti metti sotto e dai responsabilità chi è più bravo gli diamo l'aumento di lavoro perché è più bravo e inizia poi a essere il supervisor delle persone nuove e lui le fanno a quattro mani le cose e mi verifica tutti i lavori che ha fatto le verificano insieme e dice questo lo devi fare così muta giù li facciamo dottor Andrei anche ha quel ruolo dottor Andrei quello alto lui mi fa tutto il quality center la verifica di tutti i lavori è importante essere ripeto piramide inversa e dedicarsi invece che cosa mi dedico ormai alla direzione ovvero che dobbiamo avere quella che è lo sviluppo e la ricerca quindi creare gap e andare già nel futuro per quello viaggio tanto per andare già 3-5 anni avanti a portare qua quelle cose che arriveranno in Italia 3-4-5 anni dopo perché poi quello ci porta ai cervelli e in questa situazione di difficoltà di cura molto difficile di lavori difficili che facciamo abbiamo bisogno di iper specialisti iper specialisti non passano qua di fronte al marciapiede te li devi attrarre con i gruppi facebook pubblicando i casi con il progetto cinema della linea superior facendo vedere in maniera cinematografica nel mondo quello che stiamo facendo far girare i casi che facciamo a livello mondiale perché poi ci attirano i ricercatori ci attivano poi tutta la serie di collaborazioni con le con le persone che stanno fuori ok il suo caso ha fatto ha fatto già 16 share sta già girando il mondo questo caso qua anche sul Donto Tecnica Italia l'abbiamo mandato la tua faccia vedono la muova la faccia la faccia lo spero i studenti stanno girando il suo luogo noi facciamo li vedete anche voi sul gruppo riabilitazione estrema ma principalmente la documentazione che facciamo noi per scopo clinico avere lo storico e poi andare a fare vedere nel mondo quello che stiamo facendo perché poi facciamo i corsi e i corsi invitiamo e per andare in pareggio con i corsi servono i corsisti i migliori poi entrano in equipe ed è un ecosistema fondamentale questo sì che lo possiamo fare dappertutto lo possiamo fare devi saperlo fare devi avere le attrezzature devi avere il know-how e sapere quando va fatto uno e quando l'altro perché non fai sempre la stessa cosa io ve le semplifico molto le cose ma non sono così semplici ci sono molte varianti a livello di linee dentali ci sono delle volte che bisogna fare anche delle combinazioni dove fai zirconio sopra e il composito sotto io ve le semplifico le cose perché sono molto più se non dovrei passare veramente questo è l'interno che non si vede fuori ma c'è tutta una struttura digitale dentro di rinforzo questo è il pectone che ho sopra lo zirconio questo è il caso è lo stesso però finito la parte esterna questo è il zirconio e guardate qua la microtexture questa è la parte più compressa dare questo livello di naturalezza oggi c'è un paziente che ha perso un dente dal definitivo un solo dente ma non l'ha perso no questa l'ha perso possibile ma non è legato internamente da un filo no semplicemente sono separati i denti sono separati o a 3 a 3 o a 3 a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 o a 3 qua pure vedi che non è gengiva solo rosa guarda qua la texture questo è per dare la naturalezza poi qua ha simulato il frenolo qua è gengiva rosa qua è più rossastra qua è bluastra anche qui è bluastra qua c'è traslucenza qui c'è traslucenza questa è la linea si chiama di transizione dove il dente gira a un certo punto l'altra linea qua questo è un mammellone separato dal terzo mammellone che sta dietro questa è foto siamo a livello di fotorealismo se io compro gli impianti tu non diresti mai che queste sono artificiali questa è la linea superior li vediamo sulla video oggi nel senso che ma non è ce li ha in bocca ce li ha ma hanno detto che oggi si potevano vedere le differenze tra i vari materiali non qui questa è il tipo di linea che fa che ci ha insegnato Phil Reddington a fare vi faccio vedere chi è Phil Phil Reddington ed è colui che ha inventato la BDT technique questo è il livello di realismo suo dei suoi denti che fa noi siamo ormai arrivati al suo livello lui per noi è il maestro è quello che ci ha insegnato proprio a fare la linea superior lui fa venuto siamo andati guarda qua la vedi questa questa è un artista ti ha fatto dei denti anziani dei denti che sono usurati questo è un paziente che ha perso molto osso per esempio gli ha fatto molto pectone però è una protese semirimovibile che si può anche togliere questa poi rivestita con la gengiva artificiale è un artista costo 5.000 pound ad arcata la protese il dentista poi la triplica a mano la struttura interna la puoi fare col computer e anche le zirconia però poi vanno tutte caratterizzate poi devi fare l'aspetto iperrealistico lo devi fare tutto a mano ma c'è una base di cosa? di con viso fotografie viso sai perché sono naturali questi denti? perché sembrano veri? perché sono bravo ha studiato chi ha detto? no guarda tu com'è diverso il margine di questo rispetto a questo guarda questo è rotato rispetto a questo quello è sfuggente questo invece è più rotato questo è più grande di questo questo sta più giù è più rotato rispetto a questo guarda tu questo canino e guarda quest'altro canino stanno dentro una composizione regolare ma sono irregolari tra di loro nella disposizione dello spazio e questo ti dà il senso della naturalezza guarda qua i riflessi sono diversi da qua questo è asimmetrico quello è quello che ci ha insegnato Phil Reddington fate i lavori imperfetti cioè non fateli simmetrici e avrete un livello di naturalezza incredibile e la cosa poi se ci pensi è più ovvia perché non siamo simmetrici mica che io ho un albero simmetrico in natura sono tutti diversi ogni foglia è diversa ogni sasso è diverso ogni granello è diverso qua c'è una piccola recessione simulata qua c'è una recessione della gengiva simulata qua non c'è la recessione possiamo migliorare certo non c'è limite alla perfezione non c'è limite devi avere i riflettori puntati sopra a livello mondiale per questo che pubblichiamo sui gruppi quando io pubblico sui gruppi intanto valorizzo l'equipo si sentono parte di una storia che stiamo facendo proprio a livello mondiale e si sentono valorizzati ma in più sanno di avere i riflettori addosso e devi accelere non conto è giocarci la partita della fine dei mondiali senza le telecamere ma se ci sono le telecamere puntate tutti connessi dai il massimo e questo è importante documentare tutto fare le foto prima e dopo perché a quel punto tutti sono costretti a performare e questa rientrà nella strategia poi di cosa del web tutte le aziende che lavorano col web e decidono di lavorare con le recensioni devono come avere la cucina al centro del ristorante che si è obbligato fisicamente a essere osservato e giudicato in ogni momento se invece io la cucina non te la faccio vedere i piatti arrivano non si sa da dove c'è molto più rischio perché trovi il pelo nel piatto di contro le attività che lavorano con internet si basano sul sistema reputazionale lavorano molto meglio rispetto alle altre perché sono obbligate noi andiamo sulla pagina facebook andiamo sul gruppo poi c'è ogni tanto chi non capisce le cose può capitare chi vuole il pesce non capisce che carne fa parte della legge dei grandi numeri di quello arrivare a fare tutte queste review vi posso assicurare che c'è il sangue per fare tutte queste review 780 review ma con questo livello 4.9 ok significa che noi siamo oltre agli standard dobbiamo essere oltre ai protocolli fare ricerca sviluppo avere le persone i chirurghi avere il laboratorio i materiali le tecnologie queste non le puoi falsificare queste ieri non le puoi falsificare sono questi diari di bordo sempre aperti a questo punto tu stai salendo la montagna e ti stai facendo vedere che stai eccellente in quel settore la rete commerciale non serve perché ti trovano se uno cerca centro tra piatti specializzato in quello ci passa un anno a selezionare cercare alla fine per dirvi ve ne ho parlato oggi devo parlare giovedì prossimo questo è un numero il prezzo ok posso trovare la pizza a 3 euro c'è la pizza a 3 euro c'è anche da 2 euro però c'è pizza e pizza c'è la forma della pizza il colore della pizza c'è il nome è pizza ma magari non è la pizza ne ho fatte altre direzioni ok però è pizza è sempre pizza se la fai vedere a un africano è pizza si dice quale vuole in questa ti dice dice quella no quella è bruciata e nera questa hanno sbagliato la cottura a me mi avevano portato un pecorino stagionato e c'era Alessia che lavorava con noi anni fa e era sparito questo pecorino intanto racconto questo mi è arrabbiato perché a me piace il pecorino stagionato ma avevano portato e era sparito e lei l'aveva preso e mi ha detto e quel pecorino ah l'ho preso io no ma l'ho buttato cioè aveva la muffa aveva la muffa e l'ha buttato una mezza forma così di pecorino quello sai piccantino proprio salato stagionato da un bel po' dipende dagli elementi che hai per valutare purtroppo non tutti hanno gli elementi per valutare io ho le stesse foto magari che metto su Exocad Expert per esempio un intenditore andiamo sul gruppo riabilitazioni estreme della bocca le abbiamo pubblicate anche qua vi ho fatto quello che in gergo si chiamano split test per vedere come reagisce a una variante magari di pubblicazione di un elemento andiamo in diretta vediamo l'abbiamo pubblicato qua il caso eccolo qui 22 like lo stesso elemento magari nel gruppo di intenditori a livello mondiale faccio 16 share commenti è che c'hanno l'occhio per capire che cosa è quello c'hanno l'occhio per capire che cosa è quella roba l'altra che pizza è 22 like che hai messo sul gruppo amato è per profani però i profani non capiscono se questo è amatore oppure è una cosa industriale alcuni lo capiscono però noi ci interessano prima di tutto quelli perché quelli entrano poi a essere determinanti nel processo di produzione partnership insegnamento ricerca quindi quando produciamo noi dei denti in linea superior ciao intanto mettere i denti alle persone con dei protocolli che sono innovativi ma poi andare a creare dei case study che servono per il teaching che servono per il teaching anche per attirare poi i ricercatori quando facciamo la telemedicina lo facciamo per cambiare il modo in cui pensano le persone che ti faccio l'impronta qua faccio il design a New York e li stampo qua ti apro la testa un po' guardate che il mondo sta cambiando posso fare tante cose con internet noi gente normale mi si rendiamo conto che ieri non mi stacca a New York pensi che mi hanno messo in bocca e non torno a casa quei denti sì però non mi stacca a New York e ce li stanno invidiando noi non sappiamo perché tu pensi ho risparmiato pensi noi stiamo facendo invece per quindi ci sono alcune cose sotto la scocca che devono essere l'anima pulsante di un progetto perché se ci sono hai non solo preso un risparmio ma sei entrato dentro inconsapevolmente di un pezzetto di storia di una cosa che sta succedendo che sta in questo caso rivoluzionando questo settore per quello io sto nella ricerca ripetere mi vedete un po' stai andando proprio e ci sono belle aziende che stanno facendo come noi che stanno proiettate proprio una di queste per esempio che io stimo tantissimo anche loro hanno questa anima pulsante loro sono Timisoara e sono negli anni tantissimo ispirata loro loro sono specializzati in estetica però non fanno ricostruttiva completa la bocca io se ti dico loro sono i nostri i nostri punti di riferimento abbiamo fatto tanti corsi con loro sono venuti qua da noi noi siamo andati da loro dottor Adria e un loro di cerco rossiccio con il dottor Adria e il dentco sono le facette sì le facette in periodo in cui hai fatto il video che eravate su un villaggio e tante le capanne tutti in mano no no loro hanno lo stesso modo di lavorare nostro meglio noi abbiamo preso lo stesso modo di lavorare lo respirati da questo modello di lavorare lavorare per l'eccellenza non lavorare per pagare l'ufficio e le entrate non lavorare perché devi mandare il paziente a casa se no non ci servirebbero a nulla le fotocamere le videocamere il programma cinema non ci servirebbero a nulla e stare ci sono poi i preventivi attira pazienti i preventivi attira creduloni ci sono i preventivi dove si parla di tutto meno di quello che conta veramente che poi quello che succede dopo l'aftercare l'assistenza dare poi il supporto il supporto anche con con gli upgrade per esempio tutte le nostre linee dentali sono delle linee che sono studiate per essere negli anni potuti fare gli upgrade se escono fuori più avanti linee diverse sviti e avviti una nuova non sono protese incollate cementate e questo è fondamentale risparmieremo a fare i denti cementati ma non si può fare perché io non mi fido di quello che può fare il paziente in 5 anni in 10 15 anni può succedere qualsiasi cosa devi poter intervenire e allora lì servono i denti abitati non a caso se vai a vedere tutti a livello internazionale fanno i denti abitati perché se tu vuoi fare le cose fatte come si deve andiamo su foto questo è il gruppo dove ci sono i migliori adottotecnici a livello globale andiamo a protesi ok questi non sono nostri ci sono i fori protesi devono essere avvitati questa è una linea superior andiamo giù ancora questi sono dentiere questi sono denti avvitati nostri questi questo è pure un altro caso fatto da noi questi sono denti avvitati questo non l'onfor un po' rischioso questo è tutto zirconio non lo farei mai io lavoro così perché è tutto zirconio è vetro è tutto un unico blocco di vetro se tu mastichi qua non c'è impianto qui dietro ha solo 4 impianti 1 2 4 qua si rompe come mastica qua col molare questo è un punto di minore resistenza ed è tutto un blocco di vetro non ha sé per quello esistono le linee con i denti separati che sono supportate da più impianti che hanno il pectone la barra di rinforzo questa è una linea molto semplificata che si faceva 8-10 anni fa bella da vedere rapida risparmi però non è un qualcosa di sofisticato di sicuro estetica perché però si rompe che me ne faccio dell'estetica se strutturalmente non regge il paziente ci deve mangiare non ci deve solo sorridere andiamo avanti vediamo finiamo magari con l'ultimo caso anche qua avvitati questa è marcata avvitata io ho fatto l'arcata superiore che era cementata togliendo si era rotta la parte finale togliendo la digita non so la scusiamo la montagna del scalpello quello che io penso fa incollata mi ha piatto gli angli in piatto qui male non fa si rimette queste sono le linee di transizione vedi quando lo dono di tecnico dovevi decidere le forme qua invece si vede la microtessitura dai prima la macrotessitura ovvero dai le linee di transizione dove devi girare il dente poi l'ultima cosa vai sulla superficie proprio dai le zigrinature le linee verticali se il dente devi farlo un po' apparire lungo fai linee verticali se lo vuoi fare apparire largo sullo stesso volume fai linee orizzontali ci sono dei piccoli trucchetti anche poi con le traslucenze per far aprire il dente più o meno cicciottello e fare i camouflage questa è una barra per esempio avvitata una parte sugli impianti paziente estremo qua ha messo gli impianti una barra e su questa poi si incastra una seconda barra che regge la protesi ed è una protesi che avrà un pezzo di clip sopra protesi tumorali questa che i pazienti che non possono fare altre cose perché ha fatto resettiva delle basi osse ci sono casi anche più complessi dei vostri dove non si può no questo è clic clic metti e togli è come uno che ha perso tutta sta parte del viso c'ha delle cose togli pulisci la via ti attacchi la faccia parte del viso sono protesi di tipo un po' diverso questo quello che sta facendo l'ultimo psicomatico questo è pectone questo è guarda damaged goats per noi il noi abbiamo attirato nel nel tempo in questo gruppo tanta attenzione nessuno di noi e ora uno dei damaged goats è lavorato a noi nel nostro laboratorio avete visto questo questo questa persona questo simbolo qua ce l'ha su una maglietta ok ce l'ha è alto alto magro ok domitro dima ce l'avete andate anzi non qua sul gruppo proprio adesso è il settore sul bucino il bucino tentale spino tentare questo lo ne ho la riabilitazione estrema perché c'era una foto qua dove si vede è giusto presentare anche le persone con cui lavoro Gli artisti. Quella è Inga, la conoscete? Anche lei è bravissima. Bravissima veramente Inga. È un pilastro ormai questa azienda. Dottor Adria. Pazienti. Questo è un altro caso della settimana scorsa. Infermiere. Dottor Andrei. Un altro caso cinematografico. Una parte la usiamo in cinema per comunicare con voi, con il paziente, un'altra parte è proprio per la comunità scientifica. Niente, non lo trovo qua. Io vi faccio un saluto per ora, vediamo se ci sono altre domande, se sono arrivate. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ci vediamo giovedì prossimo per parlare di preventivi. Quindi se avete preventivi, ok, tirateli fuori perché facciamo una puntata giovedì prossimo interattiva. Andiamo sui vari siti web di chi ha generato il preventivo e vi faccio vedere in cosa sono specializzati. Ok, vi faccio vedere con occhio, più di addetto ai lavori, cosa fanno, perché lo fanno in quella maniera, perché un po' di background ce l'ho. Ok, sono stato in più di 100 cliniche, quando scrivevo il primo libro. Li conosco tutti, li conosco. So quali cliniche, in quali paesi sono specializzate in cosa. Loro pure conoscono noi, però il turismo all'estero, a seconda di dove vai, hai cure che sono completamente diverse. Ok, a seconda proprio del centro in cui tu entri, c'hai delle terapie diverse, perché sono aziende con missione differente e la missione è tutto poi, quella che vi ho detto, può essere la missione ricerca, oppure può essere la missione costruisci i capannoni, scappa con la cassa. Cambia completamente quello che offri. Può essere la missione fare turismo dentale, la missione può essere fare ricostruttiva estrema. Turismo dentale significa quel che viene, viene, curo tutto. L'importante è che sia un turista dentale. Vengono delle volte e ci dicono abbiamo agenzie turistiche, vi mandiamo turisti per curare la bocca. E mi siedo e gli dico ok, ma il turista non è un malato. O non è il turista necessariamente una persona che ha perso tutti i denti. Ok, non confondiamo le cose. Ok, ma io ho l'agenzia turistica, vi voglio mandare malati. Tu vorresti generare i malati pur di... ci sono... ci sono... quella è la ricerca... e la... la... come si chiama... l'intermediazione. Quella è l'intermediazione, che è una cosa molto pericolosa, perché poi rischia o di creare il malato oppure di fare la terapia fatta da mani non adatte a quel tipo di situazione oppure di fare l'overtreatment. Cioè non c'è il problema, devo comunque curarlo. La clinica degli orrori che toglieva polmoni pur di ricevere i finanziamenti. Ok? E le ho viste, queste cose le ho viste perché ho girato l'Europa. Ce l'ho tutti i video su internet. Io vi faccio un saluto e a giovedì prossimo. Chiudo il video, tre volte lo...